Continuano gli incontri sul territorio che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha organizzato in previsione del congresso straordinario di novembre, dopo Alessandria, venerdì 20 giugno, è stata la volta di Venezia. Sono fondamentali i temi che sono trattati oggi per avere una conoscenza importante e precisa di quello che andremo a discutere al prossimo congresso straordinario. Quindi oggi sono sorti anche alcune richieste di informazione precise su argomenti illustrati dai nostri rappresentanti nazionali, sia dell'EPI sia del Consiglio Nazionale, che sono stati evidenziati e segnati. In discussione i tre punti, le tre possibilità che la categoria ha per decidere e indirizzare il proprio futuro. Diploma, laurea, accorpamento verticale. Ma sentiamo le voci del territorio. Sicuramente per quelli che sono già diplomati, l'accorpamento verticale. Per chi dovrà diplomarsi, sicuramente l'aspetto della laurea triennale almeno, in modo da potersi formare dal punto di vista intellettuale. Poi per quanto riguarda l'esperienza, sempre nel triennale, almeno un sei mesi di pratica all'interno di studi e di modo da poter anche affermare l'aspetto pratico della professione. Io penso che le tematiche di oggi impatteranno fortemente sui giovani, soprattutto. Per quanto riguarda me, ho le idee abbastanza chiare sulla scelta che andrò a novembre ad effettuare. Penso sinceramente che una sia proprio da scartare, mentre le altre due siano in un certo senso legate e possono dare futuro e lustro a una categoria importante che ha fatto la storia dell'Italia. Rispetto alle tre ipotesi che sono state formulate, ritengo che escludendo quella che apre le porte ai diplomati vecchia IPS, diciamo così, che quindi si comporterebbe a un calo di iscritti, per quello che riguarda invece le altre due ipotesi, sono tutte e due ipotesi plausibili. Resta il fatto che bisogna in qualche maniera capire in quali tempi possono essere in qualche maniera portate a buon fine.